Un saluto a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Tre condanne e quattro assoluzioni. Ieri il giudice Mauro Puscedo è emesso la sentenza di primo grado a conclusione del processo per la morte di Domenico Nur, avvenuta nel marzo del 2014. Il settantenne pensionato al Garese, lo ricorderete, purtroppo precipitò dai bastioni per il cedimento improvviso di una balaustra. Condanna di un anno per Luigi Altea, all'epoca dei fatti presidente dell'Alghero in-house, difeso dall'avvocato Franco Luigi Satta. Sei mesi a testa invece per Gennaro Monte, difeso da Danilo Mattana e Antonio Ferro, assistito dall'avvocato Antonello Paese. Entrambi consiglieri di amministrazione dell'in-house quando avvenne la tragedia. Per tutti e tre pena sospesa e non menzione. Sono stati invece assolti Guido Calzia, difeso dall'avvocato Edoardo Morette, Gianmarco Saba e Giovanni Spanedda, entrambi assistiti dall'avvocato Nicola Satta, e Antonio Maria Era, difeso da Maria Cristina Floris, all'epoca dei fatti dirigenti, tutti dirigenti del Comune. Nel gennaio scorso, al termine della requisitoria, il Pubblico Ministero Mario Leo aveva chiesto invece la condanna per tutti. Ieri invece, come detto, è arrivata la sentenza del giudice Mauro Pusceddu. Alcune mamme questa mattina invece si sono ritrovate fuori dalla scuola primaria del Lido ad Alghero per mandare un segnale a chi di competenza sulla situazione riguardante il presso di San Giovanni. Dopo l'ultimo episodio, grave episodio, accaduto mercoledì all'interno della scuola, fortunatamente senza alcuna conseguenza per all'unie personale, ovvero una finestra che si è staccata e pare sia finita su un banco vuoto. Le mamme lamentano la situazione di queste finestre che pare si protraga da circa tre anni. Vogliono comprensibilmente essere tranquille quando i loro figli sono a scuola ed è per questo che alcuni genitori non hanno voluto fare entrare i loro figli dopo quanto avvenuto mercoledì. Intanto si attendono le risposte da chi può deve fornirle, inevitabilmente anche dal Comune. Come sempre, apriamo una parentesi sull'emergenza Covid, intanto col dare i dati riguardanti Alghero perché continuano a scendere i positivi. Ora sono 31, 9 in meno di questi 31, 9 sono ricoverati in ospedale. Cosa ancora più importante, non ci sono stati nuovi positivi rispetto all'ultimo aggiornamento che era stato dato. Scende anche il numero di persone in quarantena che ora sono 32, 14 in meno. A livello regionale, nell'ultimo bollettino invece, sono stati rilevati 28 nuovi casi a fronte di 5.488 tamponi. 3 i decessi e sempre in calo sia i ricoveri reparti ordinari sia in terapia intensiva. Nei primi sono 155 le persone attualmente ricoverate, 14 in meno, mentre sono 18 i pazienti che si trovano in terapia intensiva attualmente, 3 in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.776, i guariti registrati ieri sono stati invece 150. Intanto ieri in Sardegna sono state inoculate 16.876 dosi di vaccino, arrivando a 848.183 somministrazioni su 994.500 consegnate, l'85,3%. Ma l'isola deve far fronte a due problemi, intanto l'approvvigionamento a singhiozzo delle fiale ora maggiormente utilizzate, Pfizer e Moderna, e una quota importante di rifiuti o mancate prenotazioni per il target di AstraZeneca. Con le forniture siamo messi male, conferma l'Anser, commissario straordinario dell'Arest ATS Massimo Temussi, su circa 120.000 dosi, 90.000 sono Pfizer e prima di martedì e mercoledì non ne avremo altri. Così risulta difficile rispettare i target, anche perché molti non vogliono l'AstraZeneca. È un problema nazionale al quale bisogna porre rimedio, ci sono in Italia 250.000 dosi che stanno scadendo tra oggi e domani. Noi, aggiunto Temussi, pensiamo di anticipare le seconde dosi di una settimana per i docenti, per non essere in concomitanza con gli scrutini, ma le prime dosi sono a rilento. Da lunedì la Sardegna sarà con Molise e Friuli Venezia Giulia in zona bianca. Lo scenario con meno restrizioni, che prevede diverse riaperture, soprattutto lo stop al coprifuoco. Previsto anche l'arrivo dei primi turisti, la prossima settimana riapriranno, a tal proposito, diverse strutture ricettive. Abbiamo parlato delle previsioni e delle aspettative per i prossimi mesi con Stefano Visconti, Presidente Provinciale di Federal Berchi. Stagione alle porte, perlomeno si spera, si prova a tornare alla normalità. Dalla prossima settimana qualche struttura ricettiva dal ghero, tra l'altro di apriare i battenti. Sì, in effetti dalla metà di giugno un po' più di qualcuna. Diciamo, una buona metà delle strutture ricettive ci riprovano. Non ci sono ancora numeri a conforto di un'apertura, diciamo così, in sicurezza economica, mentre invece la sicurezza che noi garantiamo come categoria produttiva ai nostri clienti è esattamente quella che ci ha permesso di riaprire, in base ai protocolli che abbiamo siglato anche con le associazioni sindacali, a tutela dei lavoratori ed evidentemente degli ospiti. Si spera in un allungamento magari della stagione anche a settembre, visto che lo scorso anno è successo qualche successo, ci sono state tante disdette e questo ha penalizzato fortemente il settore. Sì, sul luglio-agosto in realtà c'è già qualche segnale, soprattutto da quando il governo centrale ha liberalizzato le aperture, quindi ridando coraggio e un po' di fiducia alla domanda. Su settembre effettivamente riponiamo grandi aspettative, perché per effetto del Green Pass, che dovrebbe essere battezzato già alla metà di questo mese, dovrebbe aumentare la percezione del viaggio in sicurezza, che poi è una delle, per non dire la condizione principale che la clientela prima di muoversi, prendere una nave o un aereo, oggi richiede. Concentrandoci sugli ospiti prettamente locali, in aeroporto qualcosa sembra muoversi, tra l'altro anche per la Winter. Sì, devo dire che ci si sta assestando, la nuova proprietà F2I è strutturata, è un partner solido, affidabile e costantemente con la politica dei piccoli passi ne dà riprovo anche al territorio. Ci fermiamo ora per un break pubblicitario, tra poco con la seconda parte. In apertura di seconda parte ci colleghiamo col tema con il quale ci siamo lasciati nella prima, c'è l'ormai imminente stagione estiva, si preparano anche gli operatori banneari, noi abbiamo sentito uno di loro, Antonello Pina del Magic Beach. Sì, finalmente si riparte con un po' di ritardo, ma la pandemia purtroppo ha fatto anche questi danni. Adesso stiamo ripartendo un po' in ritardo con la pulizia delle spiagge, almeno per quanto riguarda la prima spiaggia del Lido San Giovanni che secondo me, lo continuo a dire da anni, dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città di Alghero, come tutto il litorale naturalmente. Noi siamo speranzosi, credo che con lo fatto anche delle vaccinazioni che stanno continuando, dovrebbe essere una stagione migliore rispetto a quella dell'anno scorso. E ora parliamo invece di sicurezza, perché c'è da registrare l'intervento di Gianni Pais, militante della Lega Alghero, dopo gli ultimi fatti riportati dalle cronache cittadine, dalla ristrata giovani a Piazza dei Mercati, la più ben preoccupante operazione antimafia che ci ha visto tra i partecipanti negativo, cosa che c'era sconosciuta, pensando alla stagione estiva alle porte, come Lega vogliamo portare l'attenzione sul tema sicurezza. Parliamo di sicurezza urbana, scrive Pais, che riveste un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche pubbliche e locali ed è finalizzato a garantire una buona qualità della vita dei cittadini, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano. L'uso della parola urbana serve per attribuire alla sicurezza un nuovo significato che va oltre quello tradizionale di sicurezza e ordine pubblico, quindi non riguarda la sola prevenzione e repressione dei reati, ma si estende alla promozione e alla garanzia di migliori condizioni di vivibilità. Per esempio fare controlli sulle spiagge per il commercio ambulante non sempre autorizzato, stipulare un protocollo con la Guardia di Finanza per contrastare il commercio abusivo e far emergere il sommerso, controlli sulla sicurezza in auto dei bambini che devono sempre viaggiare negli appositi seggiulini. L'arrivo di altre unità di polizia, carabinieri e guardie di finanza per il controllo anche notturno del territorio, per contrastare in maniera ancora più forte la criminalità organizzata e mantenere anche un clima sereno in città che da qui a poco tornerà a ospitare molti turisti. La sicurezza urbana è uno dei pilastri su cui si basa la qualità della vita di una comunità e quando si è città turistica, questo aspetto assume anche uno dei motivi per scegliere dove andare. Alghero, che è una cittadina appetibile, purtroppo anche la criminalità organizzata deve avere più attenzione da parte dell'amministrazione comunale in collaborazione con le altre autorità, tenendo alta la guardia perché il nostro tessuto sociale non sia infiltrato da fenomeni gravi di stampo mafioso, chiude Gianni Pais per la Lega Alghero. Parliamo invece adesso di un'iniziativa che vede collaborare insieme il Sottoprua, Teatro del Pesce e lo Spazio T per tutta l'estate nel ristorante e alle porte di Fertilia. Sono previsti eventi di vario genere. Ne hanno parlato ai nostri microfoni Giovanni Massetti, titolare del ristorante e Chiara Murru per lo Spazio T. Giovanni Massetti, Chiara Murru, parliamo di Ristorante Sottoprua, Teatro del Pesce e di ovviamente Spazio T. Che cosa avete ideato insieme? O meglio, Giovanni, cosa hai ideato e poi hai chiesto a Chiara di collaborare con te? Allora, visto il periodo che abbiamo passato molto difficile, abbiamo deciso di unire i due settori più incasinati, quindi la ristorazione e gli spettacoli e quest'estate abbiamo immaginato una serie di eventi che colleghino la ristorazione e degli eventi speciali e abbiamo chiesto a Chiara la collaborazione per definire quali eventi e come farli. Alla fine, Ristorante Sottoprua, ricordiamo, a Fertilia, quindi questi eventi avranno proprio luogo a Fertilia? Esattamente, la sede a Fertilia, quindi al Teatro del Pesce che ha un posto totalmente all'aperto potremo avere una serie di eventi molto interessanti e quindi vi aspettiamo. Che cosa avete pensato Chiara? Fate scambio di mascherina, sempre la sicurezza. Allora, noi abbiamo ideato degli eventi site specific, proprio dedicati al ristorante Sottoprua Teatro del Pesce, per cui quello che proponiamo è una programmazione articolata in 5 eventi, il primo è questo sabato ed è un live set di Francisco Medda a Rogalla, quindi musica, musica elettronica dall'orario dell'aperitivo fino a sera, fino più o meno al coprifuoco. Poi un evento al mese, quindi quattro eventi, giugno, luglio, agosto e settembre, in collaborazione anche con le ragazze terribili di Sassari, tra teatro, performance e musica. Quindi ci sarà la compagnia di teatro danza Igor Emoreno con il coro del coreutico di Sassari, che propongono uno spettacolo inedito, Nostos. Poi c'è un concerto di pianoforte dell'artista Sade insieme a Salvatore Maltano, questo ad agosto, preceduto da un altro evento di musica elettronica dell'artista Goldmas, questo per il festival a Babbula delle ragazze terribili. E poi, in chiusura, un piccolo momento autocelebrativo, proponiamo sempre in collaborazione con le ragazze, la nostra performance Koi, cantando danzavamo, in una nuova versione specifica per il Sottoprua e per il Teatro del Pesce. Noi chiudiamo con lo sport. Oggi lo slovacco Andrei Martin, tesserato per il tennis club Alghero, affronterà Novak Djokovic nelle semifinali dell'ATP 250 di Belgrado. L'appuntamento sul campo centrale del circolo serbo è solo una tappa di avvicinamento per Nole verso il Roland Garros. Lo slovacco Martin è entrato nel mendro dopo aver superato le qualificazioni grazie alle vittorie sull'australiano Akira Santillan, doppio 6-3, e sul tedesco Mats Moraing, 6-1, 6-3. Andrei Martin, professionista dal 2007, lo scorso anno, la sua prima stagione da tesserato del tennis club Alghero, ha centrato il suo best ranking raggiungendo il 10 febbraio la 93esima posizione, grazie alla semifinale raggiunta nell'ATP di Cordova. Quest'anno invece il suo miglior risultato è stata la semifinale centrata nel challenger cileno di Concepcion. Per oggi è tutto, io come sempre vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi e arrivederci.